Sentirci sicuri per noi è molto importante, quindi quando abbiamo cercato un sistema di sicurezza per la casa ci siamo orientati subito verso una videocamera d'alta definizione. Qualcosa che non avesse molti fili. Una videocamera discreta da posizionare ovunque in casa e quando abbiamo trovato Arlo la scelta è stata immediata. L'installazione è semplicissima. Siccome non ha cavi abbiamo potuto sbizzarrirci nel trovare un posto dove metterla, ad esempio in cameretta per controllare il nostro bambino. Avendo una batteria a lunga durata l'ho potuta installare anche in esterno. Poi riceve gli allerte via email e funziona con sensori di movimento. E quando siamo in vacanza possiamo sempre rimanere connessi e sapere che cosa succede a casa. Quindi con Arlo ci sentiamo sereni sia di giorno che di notte. Arlo ha avuto davvero un impatto importante sulle nostre vite. Ci fa sentire sicuri in modo semplice. Blai un'alto? Grazie. Grazie a tutti